sono monica benvenuti nel mio canale oggi vorrei parlare di pensieri intrusivi ossessivi come nascono e come spegnerli quando non riusciamo a controllare ciò che pensiamo e la mente non si dà pace nel continuo cedere a pensieri negativi che ci generano ulteriore malessere ecco che siamo presi dai pensieri intrusivi ossessivi come possiamo spezzare questo circolo vizioso allora intanto vedremo che cosa sono i pensieri i pensieri intrusivi quali tipologie di pensiero intrusivo esistono e finalmente come liberarci da questi pensieri intrusivi ogni giorno la nostra mente è invasa da pensieri atti della mente che non possiamo controllare nel loro nascere ma possiamo sicuramente scegliere come gestirli e se dare loro un peso il pensiero è quindi una facoltà mentale che ci permette di generare idee e concetti rispetto ad una realtà a qualcosa che accade qualcosa che si osserve e che si prova il pensiero che strutturiamo rispetto a una circostanza genera il proprio stato d'animo e le proprie emozioni vissute va da sé quindi che la forma di la forma del pensiero stesso possa determinare non solo la tipologia di vissuto emotivo ma anche l'intensità e la pervasività i pensieri però non sono tutti uguali alcuni sono utili e funzionali e permettono di agire nel mondo in modo adattativo altri invece sono disfunzionali e attivano vissuti e comportamenti non sempre adeguati adattativi e utili al proprio benessere tra questi tra questi pensieri tra quelli disfunzionali vi sono i propri pensieri intrusivi allora che cosa sono i pensieri intrusivi i pensieri intrusivi sono tutti quelli che vengono percepiti dalla persona come esterni da sé e di cui non si comprende l'origine e come si possa pensare a come si possa pensare a qualcosa di quel tipo quindi sorgono in modo del tutto inconsapevole e improvviso e possono spaventare la persona generare ansia e preoccupazione eccessiva come un pensiero cattivo un pensiero che non dà pace che ci fa star male sono pensieri che possono attivare un circolo vizioso ovvero una serie di domande su perché si pensano alcune cose su che tipo di persona si è su come gestirli su quanto dicono di noi stessi eccetera la persona quindi arriva a generare una serie di altri concetti giudizi sul proprio pensiero e su di sé al punto al punto di diventare preda del proprio pensiero e di rimanere intrappolato questi pensieri possono essere sporadici oppure ricorrenti in questo secondo caso quando sono ricorrenti laddove il pensiero intrusivo diviene costante e invalidante necessita della messa in atto di comportamenti e atteggiamenti per controllarlo allora si può parlare anche di presi di pensiero intrusivo ossessivo di pensiero intrusivo possessi ossessivo che in alcuni casi sfociano un vero e proprio disturbo ossessivo compulsivo ecco vediamo le tipologie di pensiero intrusivo a livello generale a livello generale ci possono essere tantissime tipologie di pensieri intrusivi e di fissazioni mentali tuttavia spesso essi sono riconducibili ad alcune categorie pensieri violenti come quei pensieri che esprimono una intenzione malvagia e violenza verso di sé o verso gli altri che attivano spesso una serie di pensieri su di sé a livello generale come persona pensieri di carattere sessuale come quali relative alla sfera sessuale che esprimono il timore di agire comportamenti sessuali o desideri non adeguati ad esempio il timore di essere dei pedofili il timore di essere attratti da persone della propria famiglia pensieri legati alle relazioni come pensieri legati alla sfera relazionale in particolare alla vita di coppia come pensieri legati alla paura del tradimento del partner avere paura di essere traditi o avere paura di tradire pensieri legati quindi la possibilità di tradire il proprio partner pensieri legati alla sfera religiosa o magici come ad esempio la paura di non assolvere ai precetti religiosi e alle conseguenze che i peccati portano oppure all'attribuzione di concetti principi magici di certe cose o di certe realtà o di certe situazioni poi ci sono pensieri legati all'identità di genere pensieri sul proprio corpo vedi il video che ho fatto sulla dismorfia corporea come liberarsi dai pensieri intrusivi ossessivi allora a questo punto vediamo come uscirne liberarsi dai pensieri intrusivi non è sicuramente facile tuttavia è necessario partire dalla concezione che i pensieri sono pensieri e come tale non sono realtà ma la propria interpretazione della stessa per questo motivo i pensieri possono essere gestiti controllati lasciati andare e modificati la chiave sta quindi in quanto valore attenzione si presta ai pensieri e quindi quanto si continua a rimanere su di essi e sui comportamenti di essi attivati un pensiero intrusivo è un pensiero e quindi è importante come prima cosa rendersene conto diventare consapevoli di questo pensiero e accoglierlo dalla presa di coscienza laddove il pensiero crea un disagio e attiva comportamenti poco adeguati e non volti al proprio benessere è importante cercare di modificarlo oppure di lasciarlo andare così come è venuto il questo questo è proprio il principio dell'accettazione del pensiero come tale è la base la base della tecnica del mindfulness che si basa proprio sulla consapevolezza non giudicante dei pensieri che vengono accolti e lasciati lasciati andare vivendo nel qui e ora poi il distrarsi dirigere la propria attenzione su qualcos'altro non rimanendo sul pensiero fisso e soprattutto non rimuginando sullo stesso è sicuramente utile per non dare al pensiero un peso maggiore di quello che ha realmente e generare quindi una catena di giudizi non utili e dannosi tuttavia nel momento in cui i pensieri intrusivi diventano ricorrenti e ossessivi oppure si fatichi a controllarli la richiesta di aiuto di uno psicologo uno psicoterapeuta specialmente esperto in terapia cognitivo comportamentale è fondamentale permette di acquisire strategie utili al controllo e alla gestione di questi pensieri disfunzionali io mi fermo qui iscriviti al canale metti un mi piace condividi il video con i tuoi amici e lascia pure i tuoi commenti dimmi che cosa ne pensi attiva la campanella per restare sempre aggiornato ogni volta che uscirà un nuovo video seguimi sui social sono presenti su twitter facebook e instagram ciao e ci vediamo al prossimo video ciao ti ringrazio ciao 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 ciao